Non riesco a correre la faccia in barbia. Sì! Ma vediamo qui, è proprio un salone. Guarda. Guarda che è proprio. È veramente un salone. Alla fine, le persone è molto molto, andiamo tornare a casa. E questo è il salone? C'è un po' di nuovo? 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 Come and see, come and see a balla? Come and see a balla? Come and see a balla? Ah, I know, she's here Come and see, we'll go and eat Come and see a balla My purse How can I do that? Who can do that? What happened? Someone's pulse What do I do? I'll check the balla I'll check the balla Why can't she do that to me? Guy's a little girl But who is the girl? came too Let me do With the balla no, no, no. A presto, a presto. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti